bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti e allora signori prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che andate a dare a questa serie e al canale vi ricordo di seguirmi su social, mi trovate sia su instagram che su facebook come maullo941 in cui tramite le stories o comunque tramite i social mi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, di solito alle 9 e mezza sempre qui su youtube detto questo signori, piccola informativa, di solito questa serie noi l'abbiamo fatto simulando tutte le partite io l'ultima volta ho fatto un sondaggio, vi ho chiesto se volevamo continuare a simulare questa serie o se dovevamo giocarci le partite, ha vinto il giocarci le partite e mettere i gol come riassunto delle partite quindi in questo video noi ora andremo avanti, vedremo di fare un attimino il punto sul mercato e faremo l'esordio in campionato detto signori, non perdiamo molto tempo e partiamo con il video ok signori, allora io ho fatto un attimino e reso conto della rosa a parte che Alstad è il nostro portiere, il nostro portiere ce l'abbiamo i giovani sulla sinistra stiamo venendo il principe Harry, sperando che vada via ci manca un difensore centrale, buono, perché abbiamo i due titolari che sono Davis e Lavelle ma ci manca uno da affiancare a Grieves che magari dovremmo trovare un poco meglio sulla destra siamo messi bene, a centrocampo va bene signori, Cainon, Songo, Wilding e Diagurara Diagurara si riterrerà al termine della stagione, l'abbiamo messo sul mercato io quasi quasi lo manderei via direttamente, mi dispiace per lui ma non lo posso fare lo possiamo licenziare, ce lo dobbiamo tenere sulla pancia comunque sulla destra abbiamo Sullivan e McGree in attacca abbiamo Lesmit, Stockon, Miura che è la nostra mascotte Aladino, Scott che viene dalla primavera e Slow Slow signori l'ho messo sul mercato, vediamo se riusciamo a farci qualche soldino per andare a prendere qualche giocatore, qualche difensore che ci può servire ora io volevo semplicemente vedere un attimo qui nello staff, eccolo qua noi abbiamo dei difensori centrali? No abbiamo McNeigh che è comunque un CD, C, C, D noi diciamo che il difensore centrale lo soffre lo stiamo trasformando in un centrocampista centrale, McNeigh McNeigh che ha 16 anni ma deve crescere un botto signori che non possiamo giocare con lui in difesa poi abbiamo Kante, che comunque ha un buon potenziale sulla sinistra Pardy, Joshua, il nostro elmetto che praticamente sarà una mascotte poi abbiamo Mooney, Mooney che è il 94, ottimo potenziale e Connor che secondo me questi due sono ottimi, tra l'altro hanno 18 anni questi Mooney lo stiamo trasformando in CC aspettiamo che Mooney diventa un CC, signore lo promuoviamo in prima squadra e poi abbiamo Milen, Oliver sulla destra e Barrett, il nostro Benjamin, anche lui sulla destra io direi di aspettare che Connor diventi no, che Mooney, che il nostro Tommy diventa un centrocampista centrale e lo mettiamo al posto di Diagurera, signori vediamo se riusciamo a vendere Diagurera in tutto questo a noi serve un difensore centrale andiamo un attimino a vedere una cosa io ho visto che se noi facciamo cerca giocatori cerca giocatori e cerchiamo fra gli svincolati ma andando a mettere una nazione precisa nazione e regione, di qua, sì, per esempio andiamo a prenderli vediamo se ne troviamo, noi siamo in Inghilterra vediamo se ce ne è svincolati in Inghilterra, signori diretti vediamo dovrebbe trovare altri giocatori che non sono sulla lista degli svincolati che abbiamo visto noi prima a noi serve un difensore centrale allora, vediamo se c'è qualcuno che si illumina d'immenso c'è tanto... Wesley Clark non sembrerebbe niente male Wesley Clark sfacciamolo seguire e aggiungiamolo alla lista non è niente male, seguiamolo, seguiamolo vediamo se c'è qualcun altro che si illumina d'immenso Luke Garbut c'ha 28 anni è già vecchietto questo che viene da noi chi? Phil Giacielka Giacielka guarda come ride mi stava simpatico ma non fa il caso nostro Jordan Obita no, 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 no abbiamo visto uno Mitchell Tyrick ma sono esterni no, a noi serve un difensore centrale un DC un DC possibilmente anche giovane e niente in Inghilterra non abbiamo trovato niente troviamo un sacco di altri giocatori interessanti praticamente cercando gli svincolati così vediamo 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 nella top in Brasile difensori in Brasile beh potremmo trovare il reggente di Tiago Silva forse ma non penso possiamo trovare qualcuno interessato infatti solamente 4 però però Marcello non sembra male signori Marcello da mettercelo lì in messo dietro poi sono tutti vecchi Geronimo mamma Geronimo sarebbe tanta roba Geronimo elevazione velocità scatto forza non sembra male 18 anni Geronimo non sembra neanche male neanche tanto male proviamo l'ultimo vediamo in in Germania facciamo sì questo video è un po' più così più particolare e vediamo in Germania se troviamo qualcuno Germania in Germania difensori rocciosi ma non ne ho più po' di idea vediamo se troviamo qualche difensore interessante qualcuno che si illumina di immenso qualcuno che si illumina come se non ci fossero domani tu ma sei un esterno tu sei un esterno tu no qualcuno che spicca proprio di verde è che uno dice mamma uh vulzi ma sei un esterno facciamo l'ultimo tentativo in Italia signori poi eventualmente me lo cerco off camera facciamo l'ultimo tentativo vediamo se in Italia c'è qualcuno di interessante dai così con l'Italia vediamo se riusciamo a beccare qualcuno in Italia di interessante qualche difensore centrale abbiamo caputo che è inguardabile 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 perfetto perfetto tre giocatori inguardabili Regini Pasqua Regini me lo ricordo sì niente non abbiamo trovato niente di particolare abbiamo trovato 2-3 che abbiamo messo a osservare vediamo cosa uscirà da queste situazioni intanto andiamo avanti col calendario e avviciniamoci alla prima partita che andremo a giocare oggi signori la prima partita ce la speriamo oggi decisi decisi con la nuova modalità allora sono felice ok siamo tutti contenti che tu sei contento l'importante è che mi porti delle offerte interessanti perché sennò dico di che stiamo a parlare dell'aria dell'aria fritta stiamo parlando riusciamo ad andare avanti sì ok simuliamo gli allenamenti e andiamo avanti piano 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 niente non arriva un'offerta tutto bloccato tutto fermo se solo era contento che l'abbiamo messo sul mercato ma non sta avendo minimamente mercato stiamo arrivando a fine luglio senza nemmeno un'offerta mamma che povertà che povertà signori mi aspettavo magari qualche cosa abbiamo un portiere o principe è rivenduto principe è rivenduto signori ok principe è rivenduto va bene ci danno 675 va bene mettiamo qualche milioncino da parte avviciniamoci la mai alla prossima partita che è la prima di campionato chi ha comprato il Milan Alexis Claude Maurice non so chi sia prima partita di campionato di arrivo noi dobbiamo vedere solo implicemente cosa abbiamo come obiettivo offerta per il interessato al club per slow nostro mister lento ok slow vale 2,10 loro me ne offrono 2,40 il massimo che potremmo chiedere accettiamo accettiamo signori vediamo se riusciamo a levarci anche il pesante ingaggio di slow e andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti serie di notifiche ok offerta per il trasferimento per Alstad il nostro portiere ok Alstad vale 1,6 me ne offrono 1,9 rifiutato il trasferimento chi se ne frega accetta 1,9 si dai vai da loro vai da loro vai da loro vai 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 e pascolare da altre parti allora reso conto di Clark Clark è un 65 non mi sembra niente male per essere un difensore andiamolo a prendere andiamoci a prendere aspettiamo il 1,6 non è niente male come giocatore signori chi è che vuole parlare Gibson aver disputato un bong pre-campionato ha avuto problemi va bene non esistono giocatori insostituibili diamogli una paghettata in testa così capisce che deve continuare a lavorare sotto se vuole ci penserò ci penserò ci riusciamo a dargli la risposta come ci penserò si ce l'abbiamo fatto ok ah già siamo alla partita signori ok prima partita di campionato noi andiamo a giocare con Stockholm Leigh Smith Giardino Kanon Wilding Sullivan Mellor Davis Lavandino Stevens si con l'eroe in porta va bene signori giochiamoci la prima partita di campionato seconda partita che ci giochiamo in assoluto con i gamberetti siamo fuori campo fuori campo si fuori casa e vediamo un attino solamente i sostituti che ci stiamo portando allora Aladino Miura mi augurerà Pringles base alla allora mi porterei invece McGree a posto di Pringles così lo facciamo esordire Scott a posto di Aladino così lo facciamo esordire pure e Greaves se si mette bene ce lo portiamo a posto di Gibson ok vediamo se riusciamo a fare esordire i tre i tre giovani signori detto questo non perdiamo altro tempo e scendiamo in campo Musica Grazie a tutti. 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 Bella raga. Ciao.